Io ho verificato in questa campagna elettorale per quello che riguarda la campagna una vicenda che mi ha colpito profondamente. Io ho assistito e pagato la più violenta, infame e cinica campagna di aggressione politico-mediatica che io ricordi nella vita della Repubblica italiana. Credo che neanche Totò Rina abbia avuto questo trattamento. Una campagna di aggressione politico-mediatica che aveva un doppio obiettivo ovviamente. Il primo era un attacco al governo e a Renzi. Ragioneremmo probabilmente in maniera diversa se avessimo perso la campagna. Il secondo obiettivo più interno alla campagna è questo. Noi abbiamo sconfitto il più formidabile blocco di potere burocratico, clientelare e camorristico del nostro Paese. La sprezza, la durezza e la lunghezza della campagna di aggressione politico-mediatica era direttamente proporzionale alla quantità e al peso di quel blocco di potere che noi abbiamo sconfitto. Dovremmo lavorare anni per liquidarlo e sradicarlo, ma intanto lo abbiamo sconfitto.